Giuseppe Frattarolo, vicepresidente della Daunia Tour, trattandosi di un incontro ma soprattutto di un incontro quale confronto, vorremmo chiederle quali sono le difficoltà nelle quali incorrono gli operatori turistici. Sì, grazie. Gli operatori turistici oggi siamo veramente in pochi, questo è necessario, fare quei pochi professionali, quindi collaborare tra di loro, questa è una cosa fondamentale, creare sistema. Quindi non dobbiamo inventarci nulla, il territorio è molto bello, ha bisogno soltanto di maggior collegamento tra loro, fra le istituzioni, gli operatori turistici e accogliere la gente nel miglior modo possibile. Tutto qui. Grazie, grazie a Giuseppe Frattarolo.